Ciao a tutti e benvenuti nella mia study routine. Nel video di oggi vi spiegherò come metto in pratica il mio metodo di studio. Nelle i vi lascio altri video riguardo se vi interessa. La mia routine scolastica è divisa in due parti, lezioni mattutine e pomeriggio. Iniziamo con le lezioni, durante esse prendo sempre appunti. Recentemente mi sto trovando meglio a prenderli a computer perché riesco a scrivere più velocemente e quindi a segnare più informazioni e non devo ricopiarli in bella, risparmiando tempo. Inoltre, in questo caso stavo prendendo appunti di storia dell'arte, riesco a inserire le immagini direttamente da Google Docs, così da avere l'opera di cui si sta parlando sotto gli occhi. Quando invece sono in presenza, in realtà purtroppo molto lontana ora come ora, prendo gli appunti su un quadernino di brutta che uso per tutte le materie, appunti che poi ricopierò in bella sui quaderni della materia specifica. Così ho anche lo zaino più leggero. Ovviamente, in qualsiasi caso, ciò che ho scritto verrà ripreso per essere sistemato alla fine delle lezioni. Parlando proprio di ciò che faccio alla fine di una lezione, un passaggio fondamentale è segnare i compiti, le pagine da studiare, gli approfondimenti assegnati, gli eventuali giorni di verifica o interrogazioni con gli argomenti. Io utilizzo questa agenda di Moleskine presa su Amazon, vi lascio il link nell'info box se volete acquistarla. Il terzo e ultimo step per quanto riguarda le azioni che faccio la mattina è segnare eventuali dubbi e domande o parti che mi sono accorta di non aver scritto bene. Facendo ciò fisso le informazioni che ho bisogno di recuperare o di farmi rispiegare alla lezione successiva. E così mi sono accorta che evito la spiacevole situazione di trovarmi a studiare con delle parti mancanti o del tutto incomprensibili che mi fanno solamente perdere tempo. E aggiungerei anche che puntualmente queste spiacevoli situazioni si verificano quando mi sono ridotta all'ultimo a studiare, inducendomi una crisi di panico o un attacco d'ansia. Insomma, vabbè, sorvoliamo! La pausa pranzo è senza dubbio la mia parte preferita. Ci tengo a fare una piccola parentesi, ovvero che per questo pasto cerco sempre di non mangiare alimenti troppo pesanti, zuccherati o elaborati per evitare l'effetto del sonno improvviso subito dopo. Solitamente mangio delle verdure come contorno a un uovo o hamburger vegano oppure direttamente un'insalata. Altrettanto importante per me è prendere una pausa di circa 30 minuti dopo essermi alzata da tavola. nella quale programma il mio pomeriggio e sto un po' sui social, leggo oppure disegno, insomma mi dedico a qualche hobby. Facendo ciò si fanno più o meno le due e mezza tre e arriva il momento di mettersi, ahimè, sui libri. Per quanto riguarda l'organizzazione fissa per il mio pomeriggio di studio, tendo a fare i compiti scritti prima. In realtà non ne ho praticamente mai, per cui i miei compiti sono ricopiare gli appunti o sistemare i file di Google Docs. In questo caso una mia amica mi aveva mandato i suoi appunti un po' più completi dei miei con cui stavo integrando ciò che avevo già scritto. Questa fase dura mezz'oretta, massimo un'ora. Un altro aspetto che non cambia mai, non importa di quale materia si tratti, è il fatto di alternarle. Ad esempio, questo pomeriggio dovevo studiare sia francese che tedesco. Ho iniziato con francese, cambiato con tedesco e poi sono ritornata francese. Questo penso aiuti il mio cervello a rimanere più attivo, ma è una caratteristica soggettiva, magari anche una mia convinzione e poi ognuno fa come meglio crede, come pensa sia meglio per la propria persona. Nello studio mi aiuto con un'app scoperta da poco, che si chiama Focus Plant, ed è la versione gratuita della più conosciuta app Forest. Con questa si può praticamente bloccare il telefono per un determinato numero di minuti che decidete voi, al termine del quale riceverete delle gocce per annaffiare le vostre piantine ed espandere il vostro giardino. Sembra stupido, ma io lo trovo un modo divertente per motivarsi, che vale la pena provare. Comunque, in questi primi 45 minuti, ho sottolineato del materiale di francese e ho iniziato a studiarlo. Siccome so che me lo chiederete, vi lascio sotto anche i link dei pennarelli e penne utilizzati, che sono i miei preferiti. Prima di cambiare materia, al termine dei 45 minuti, faccio 5 minuti di pausa. Le attività variano molto. Tendenzialmente non sto sui social perché mi porterebbe via più di 5 minuti e comunque imposto un timer per essere sicura di non sforare. Ora passo a tedesco, per il quale dovevo fare degli schemi di letteratura e inizierà a ripetere in vista della verifica. Il fatto di ripetere ad alta voce mi aiuta a capire se sono pronta o meno e su quali argomenti devo concentrarmi di più ed è un passaggio che faccio per tutte le materie discorsive. Dopo due o tre sessioni da tre quarti d'ora ciascuna, faccio una pausa più lunga di 10 minuti nella quale faccio anche uno spuntino. Può essere frutta secca oppure frutta di stagione, oppure un tè o un caffè latte o un cappuccino. Varia molto anche dalla fame che sento in quel momento. Infine mi rimetto a studiare francese, sempre ripetendo a voce alta. Bene, anche questo video è finito, spero davvero che vi sia piaciuto. Se così mi raccomando lasciate un pollicino in su e fatemi sapere qui sotto com'è la vostra stagio routine, così magari posso prendere spunto anche io da voi e posso migliorare la mia e condividere la vostra esperienza con gli altri potrebbe aiutare qualcuno che magari non si trova d'accordo col mio punto di vista a trovare il suo personale metodo di studio. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, attivate le notifiche per non perdervi le prossime uscite e se vi va andatemi anche a seguire su tutto il resto dei miei social che come al solito vi lascio qui sotto nella descrizione perché sono abbastanza simpatica anche lì. Io vi mando un grosso grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!